La sconfitta è una partita molti alti e bassi, però alla fine fino al quinto ci siete arrivati. Sì, l'obiettivo oggi era portare loro a tiebreak, da questa cosa siamo riusciti, però se arriviamo là vogliamo sempre vincere, quindi siamo un po' deluso, ma un punto molto positivo di oggi è che dopo che facciamo molto male nel quarto set abbiamo fatto la battaglia di nuovo e siamo riusciti ad arrivare nel quinto e là si gioca punto per punto. Adesso oggi perdiamo, però possiamo imparare molto da questa partita, secondo me. Questa sera siete i primi in classifica insieme a Perugia? Sì, ma non conta, non conta, non conta. Vediamo dove arriviamo, adesso lavoriamo ogni giorno molto duro e speriamo che alla fine dell'anno si paga. Sì, ma non conta, non conta.